Presidente, amici carissimi, anzitutto il grazie più vivo a queste tre istituzioni che hanno organizzato questo incontro, è veramente una cosa fantastica, una delle cose più belle alle quali io abbia potuto assistere. Anch'io 50 anni fa, nel 1964, in una regione della società italiana di statistica presentai un qualche cosa che si collegava a Gini, presentai un indice che aveva la stessa struttura sostanzialmente dell'indice di disomiglianza, però fondato sui ranghi, che mi ha consentito appunto di proporre questo indice, un parametro di confronto fra due campioni. C'era Gini a presiedere quella sessione della società italiana di statistica, non so se la faccia era corruciata, ma praticamente non era una faccia, diciamo, di quelli che sono soddisfatti di quello che uno sta raccontando. Forse sia a me che a Gorini, diciamo, questo atteggiamento di Gini è stato positivo, o forse non abbiamo saputo interpretare correttamente il suo pensiero. Io volevo mettere in enfasi un aspetto. Ci sono stati 4-5 interventi fino a questo momento. C'è un denominatore comune. I compiti a casa che Gini ci ha lasciato. Io sono uno studioso di metodologia, non perché abbia studiato in una faccola di statistica, ma perché ho avuto questo dono di saper utilizzare la matematica senza averla studiata, quasi mai. devo dire che sono sempre rimasto sorpreso della capacità di alcune proposte, di strumenti metodologici, dalla differenza media all'indice di disomiglianza, all'indice di corvaluzione, alla transvariazione, a tutta una serie di cose sostanzialmente partorite dalla mente di una persona che non era un matematico, o forse non aveva mai studiato tanta matematica. ovviamente io parlo come metodologo, ma le stesse cose le hanno detto. Tutti quelli che sono intervenuti prima di me, compiti a casa. Quanto dobbiamo a Gini per aver aperto degli argomenti sui quali abbiamo potuto, con la nostra sensibilità molto diversa, naturalmente portare poi il nostro contributo all'avanzamento delle scienze. Al di là di qualche divergente di opinione che tra con una persona della produttività di Gini non possono certamente essere assenti su mille volumi o articoli o interventi prodotti evidentemente su qualche ad uno, possiamo anche non essere d'accordo. Ma quante cose ci ha lasciato e quante cose naturalmente abbiamo potuto continuare e per questo credo che dovremmo essere veramente gravi a questo uomo straordinario. Grazie.